Credo che sia una delle esperienze di avanguardia in Europa questa del Change. L'attività in che cosa consiste e che cosa abbiamo fatto partire questa mattina? Un'attività di screening generalizzato sui neonati. Si preleva una goccia di sangue a tutti i neonati della Campania e si verifica se ci sono segnali di possibili degenerazioni tumorali. E' una cosa eccezionale che ci consente di individuare per tempo malattie rare e che pone da questo punto di vista la Campania all'avanguardia in Italia.